Ciao a tutti bellissimi e ben ritrovati nella Vanilla Allora oggi iniziamo con la fanart di Gabriele Grazie mille per la vanart Per la vanart Per la vanart E' la prima vanart che riceviamo Caspetta è vero Grande Gabriele Cuore Cilo Bene ragazzi allora in questa puntata Allora prima che io mi devo alzare il fov Chiudi le porte Allora finalmente dobbiamo fare il nostro portale Allora aspetta Tra l'altro piccola parentesi Allora ci avete detto che Uno si mette la farina d'osso solo su uno Altri che si mette in diagonale Altri su tutti e quattro Altri che non c'è spazio Raga non si capisce niente Decidiamo Facciamo un voto in cui ognuno decide quello che Insomma è un mistero Alcuni hanno detto che non c'è spazio Però raga c'è spazio finché crescano Poi sono quattro In effetti per crescere l'albero di Quercia Scuro Sarebbero quattro ervoscelli uno a fianco all'altro Però qui casca Ce n'è di spazio finché crescano Sennò sentite Mi sposto da un'altra parte ancora Lauri Problema Aspetta Ok non guardare Non guardare Non guardare Non guardare dei poli Dai andiamo in miniera Su 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 Ma non è Quercia Scura? Cosa questa Quercia Scura? Cosa stai fom... Ah quella Quercia Scura è cresciuta No? Stavo guardando dalla finestra Prima di iniziare a registrare il video E dare un arbo scegli È cresciuto Lauri Oh easy raga È cresciuto in un mondo stranissimo Però ce l'abbiamo Meno male Ok Come al solito è successo che io volevo togliere la stacionata Perché ho reentrato qua dentro e poi rimetterla Cosa faccio? Metto la stacionata e sparisce giustamente Come in ogni santa situazione Ok Mi serve cibo Tanto cibo Io ho due cose di pollo e basta Ah vediamo un attimo il grano Se è cresciuto Così mi faccio delle pannos Esatto Io vado a cucinare un po' di pollo Come al sempre Perdiamo tempo affinché Per mangiare Dove sono le fornaci? Dobbiamo mettere anche quelle nel magazzino Eh sì tutto Tutto È ovvio Oh perfetto Non ci basta il cibo Vero? Cioè è incredibile Eravamo pieni di cibo Adesso non è Non so perché è così difficile Non lo so Non era così nell'altro Questa impressione Che oddio Ma perché abbiamo così poco Ma perché avevamo le farm Lari Sì ma l'invenzio nell'altra Non mi ricordo che fosse così difficile Eh lo so Vabbè Infatti ho ucciso tre animali Per cosa? Per tre costolette Cioè è incredibile Vabbè comunque Allora Ci avete detto inoltre Di utilizzare la lava Del villaggio Sapete quello che avevamo trovato Con la lava del fabbro Sì Quindi boh Vabbè potevamo scendere miniera qui E prendevamo subito Beh in effetti sì Dai scendiamo in miniera Io ce l'ho il piccone di diamanti Così ragazzi Farmiamo subito dieci blocchi di Di ossidiana Sì anche io ce l'ho E andiamo nel nether Per vedere un attimo Come ci spawniamo Se ci spawniamo in una Posizione ottima Poi ci spawniamo Sai dove? Esattamente sopra Il mare di lava No Col portale Io ne sono sicuro Me lo aspetto Speriamo Ma ti ricordo se c'era stata la lava Sì ma c'era Io non mi ricordo che ci fosse Oh eccola Però l'acqua ce l'hai? Sì No grande Però il problema è che non è molto ottimale Vabbè la metto sopra Ma aspetta 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 Facciamo così La facciamo scendere di più Sì Così è come se ci fosse più lava Ah ok capito Capisci? Sì 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 giusto Ok dovremmo essere a posto E da dove la metto? Eh dall'alto Tipo da questo blocco qui Guarda sul mio computer Ah Qui? No no da quello Guarda da me Da quello? Sì Tac Bello No è vero Che scemi Doveva essere il contrario Scema Sì No Eh vabbè Adesso No raga non ci ho pensato Non ci resta che andare nella miniera grande Che era quella Oddio Cos'è questo? Era qua? No Dov'è? Dov'è la miniera normale? È qui Vlad Dov'è? Non la fosse qua no? Sì ma c'è un salto enorme No Ah no? No 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 E sto bruciando ma si può Tieni un po' d'acqua Grazie Oh scusa Ma Aia Scusa anche tu Ma raga non era da queste parti O sì No 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 Eh qua c'è un po' di lava Ok no la lava stava scorrendo qua Ok no forse qua Però se smettessi di scendere sta lava No ma prendila col secchio Vlad Ho il secchio pieno Oh caspita Aspetta Fai un buco Fai un buco No stai zitta Lasciami fare Faccio così E ho fatto un altro secchio Perfetto Ma non abbiamo preso la lava in questo modo Ti odio Ma la prendiamo dopo Non ti potete Ok ok Qua esatto Qua c'è già ossidiano Ui sì allora niente Prendiamo qui E sta buono Attenta che non ci sia la lava sotto Sì 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 tranquillo Allora ce ne servono cinque Tipo Perché ne avevamo Quei da villaggio No sei Sette ne avevamo No Cosa dici Cinque Lava Oh ca No me li ha mangiati Vlad Questo No Sei pazza Eh Vabbè questi li possiamo prendere Quindi è facile Io ne ho quattro Direi Ma io ne ho uno Cinque Cinque Vabbè prendiamo anche Ma non sono quelle che avevi Dal villaggio No poi li li ho lasciati a casa Ah ok perfetto allora A posto Cinque Con questo Con questo Sei Vabbè possiamo anche tornare Torniamo Torniamo Come Non mi ricordo Ah da lì Da lì Sì Bravo bravo Così Ti odio No Va bene Oro Eh Ehi Ma perché siamo così impediti oggi Non lo so Ok ok Allora decidiamo dove fare il portale del netherman Direi un attimo più spostato Vero Cioè Sì 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 Poi magari ci facciamo una costruzione attorno Oppure lo spostiamo direttamente Sì Facciamo una similtaverna Qualcuno Perché c'è la porta aperta È entrato qualcuno Tadam Ah Andiamo a dormire tra l'altro nel frattempo Perché sta diventando notte E quindi tanto vale Sì giustamente Dobbiamo allargare se farm raga Che sono terribili Cioè Allora L'ossidiana Altra E nel magazzino Perfetto Prendila No Prendila Mi rifiuto Ti devi prenderla Dove la ossidiana Non c'è Però direi di farla tipo dall'altra parte Da qua Sì Ma facciamola un po' Dove tanto appunto faremo una costruzione a parte In cui fare il portale decente Giusto? Sì 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 Ok direi da questa parte Uno Due Tre Qua E aspetta metto un banco Un banco da lavoro Tac Non ho un acciarino però No ma la facciamo bruciare Ecco cosa ci serviva la lava Eh vabbè Aspetta aspetta Per forza ci serve Vlad Sennò non riusciamo a fare niente Aspetta ho risolto No Cacchi faccio Mi serviva la selce C'è la selce in casa? Sì? Sì Valla a prendere No nel magazzino Non so di quanto ce ne sia Però mi ricordo che ce ne fosse Tanto vado in casa a cuocere il cibo Perché non ne ho E per il nether ne ho bisogno Ah eccola qui Selce due Va bene? Eh uno bastava Quindi sì Va bene Perfetto Dove sei? Arrivo vado a cucinare Allora qui Già del grano è cresciuto E anche queste qua Prendili quindi Non so mai Ma anche qua è cresciuto Lo prendo anche da qua Queste sono cresciute Perché non le abbiamo mai avute Le Sì Le barbabietole Le barbabietole no Quindi ci sta Mi sono cresciute In frettissima raga Ma probabilmente Anche perché Non ti danno un tubo Di niente Di cosciotti Quindi è fatta apposta Perché crescano più veloce Tra l'altro Però ci stava bene Faremo le torte Poi con Sì Cioè Tiene riempie tipo Un mezzo Dai tieni Cibo Cibo Perfetto Dammi la selce O ti sei già fatta la cerina No Ci sei Yes Aspetta Aspetta che arrivo Mangia barbabietole Lei nel frattempo Sì Olè Raga La prima volta Nel leder Sì Spera che non è nel vuoto Spera non è nel vuoto Spera Ok no Non è nel vuoto Perfetto It's perfect Cioè Sì È uno spazio enorme Madonna Ci puoi fare un castello Qua dentro Raga Che figata Guarda qua il mare It's Wow C'è un sacco di roba Ma infatti Vabbè che Qua sembrava Abbiamo anche la sabbia delle anime Esatto C'è anche il quarzo Sì stava morendo Qua sembrava che fosse in riva Però c'è un salto da qua fino al mare È vero È vero che ti dà quell'impressione Che paura Vabbè prendiamo qualcosina Purtroppo però non abbiamo nessuna fortezza Però Nelle vicinanze Magari ci sarà Però Esploriamo Allora prima di tutto Prendo l'alluminite Perché Sì Cioè ci sono tipo delle zone Semanissime Però Ecco Prendi l'alluminite È quello che ho detto Ma infatti ti ho dato ragione Ecco Prendi l'alluminite Va bene Prendiamo un po' di illuminite Quanto ne possiamo Se c'è del quarzo Così iniziamo già a fare qualcosa di Ma il quarzo non so Magari qualche dettaglio Qualche dettaglio Qualche dettaglio Ok Qui non c'è niente Se ci fosse stata la fortezza Sarebbe stato molto meglio Eh vabbè Avevamo un easy farm attorno Però Vabbè Pazienza Pazienza Poi avevo visto del quarzo qui Da qualche parte Per terra Ma io del quarzo l'ho già preso Era per terra qui da qualche parte Esatto No Pensavo fossi te Questa che sbuntava Eccoti qui Che colonia di Maialini Oh Ecco c'è un altro Perfetto Ho già 22 di quarzo Vabbè Non è tanto raga Ma non so neanche se Lo utilizzeremo ora Come ora Non so Ma è sempre qualcosa Io ne ho 11 Perfetto Ah caspita Dovremmo segnarci le coordinate Zio Sì Sì Ok fatto Madonna è enorme Sto spazio Lì c'è una cascata Che Sì Vabbè Oh Ghast Ghast Da nulla Sì esatto Perché io ci sono passata In quel pezzo Mi sono girata E c'era Era apparso Sfigato Te la rimando indietro Ok Allora Vlad direi di ritornare Tanto ormai di cose Ora non ce le servono Sì esatto Torniamo indietro Però è già tanto Che l'abbiamo fatto No almeno sappiamo Dove è la zona Quindi nel caso Dobbiamo fare Qualche costruzione Nel nether Come abbiamo fatto Per la scorsa vanilla Sappiamo che Abbiamo una posizione Niente male Sì esatto Non ci sta Ok ragazzi Allora possiamo finire Qua questa puntata Se riusciti appunto A fare questo portale Nel nether Probabilmente Nella prossima Inizieremo a fare O qualche farm O comunque Qualche costruzione Vediamo un attimo Esatto In ogni caso Vi ricordo Di rompere tanti like Iscrivetevi Se non lo abbiamo fatto E noi ci vediamo In prossimo video Ciao